Kaila aveva problemi già all'inizio della partita, ha detto che sentiva le gambe dure, non so se adesso vedremo se ha la febbre o se ha qualche problema. Non lo so, non ve lo so dire, però si sentiva non bene. Tra l'altro senza anche Ferraro ero all'inizio un po' preoccupato, però poi siamo stati bravi anche qui come a Matera, diciamo dal secondo quarto in po', il terzo quarto abbiamo aumentato un po' l'intensità difensiva, abbiamo cominciato a correre un po' di più e abbiamo trovato dei buoni canesti. Ho rispolverato Moreno numero quattro, può capitare di perdere qualche partita con squadre forti, però è chiaro che noi vogliamo arrivare, nessuno vuole mollare qua, anche perché non abbiamo ancora la certezza di fare i playoff, quindi perché c'è un bordello dietro di squadre a quattro a sei punti e quindi con quattro partite dietro, quindi è chiaro che dobbiamo stare sul pezzo e non mollare assolutamente. Adesso spero, dopo questa partita, la squadra ha dimostrato in tutti i suoi componenti di star bene sia mentalmente che fisicamente, quindi abbiamo fatto un buon lavoro atletico, quindi Faragalli ha lavorato bene, molto bene, mentalmente stiamo bene, tatticamente stiamo, ogni tanto facciamo delle stronzate, però diciamo che la nostra paracanestro viene giocata per parecchi minuti e adesso spero di recuperare Ferraro perché nelle ultime quattro partite sarà molto importante con squadre molto più fisiche e con squadre toste e quindi è chiaro che la presenza di innocenzo sarà molto importante, soprattutto per gli equilibri difensivi.